A tutti voi buonasera dal Tg Max, in apertura c'è la cronaca, viaggiava in auto con mezzo chilo di ascice, custodito nel marsupio in manette, un 29enne teramano già noto alle forze dell'ordine. La squadra mobile di Teramo l'ha sorpreso mentre tornava in auto nel capoluogo con altri tre giovani provenienti probabilmente da un viaggio di rifornimento sulla costa. Al 29enne sono stati concessi i domiciliari. Sono passati due mesi dal licenziamento dei lavoratori del Mario Negri Sud, ma ad oggi nessuno di loro ha ancora visto un solo euro. La Cigeli ha chiesto un incontro urgente con i commissari liquidatori, intanto il 23 luglio i sindacati sono stati convocati in regione. Licenziati due mesi fa dopo 20 mensilità non corrisposte, costretti a presentare dichiarazioni di redditi basate su certificazioni sbagliate, sono disoccupati, ma l'Inps non ha ancora erogato gli assegni perché non sa come calcolarne l'importo e l'incubo che stanno vivendo i 100 ex dipendenti tra ricercatori e amministrativi dell'Istituto di Ricerca Mario Negri Sud, proprio quando in questi giorni il Consiglio regionale ha votato la legge che salva il carrozzone di Abruzzo Engineering con 185 dipendenti che senza aver sostenuto un concorso si ritroveranno ad essere a tutti gli effetti dipendenti pubblici. Una situazione intollerabile per gli ex dipendenti che si domandano cosa stiano facendo i commissari liquidatori. Proprio a loro la CGL ha rivolto l'invito a fissare un incontro urgente per fare chiarezza sulla tempistica e sulla modulistica Sergio Aliprandi della CGL Chieti. Noi vogliamo in qualche modo stimolare e rappresentare la drammaticità di queste persone che non riescono più a vivere senza neanche un soldo. Nonostante siano stati licenziati a maggio ad oggi non riescono ancora a prendere la Naspi, di conseguenza c'è una situazione molto molto critica. L'unico interesse che viene fuori fortunatamente è la regione Abruzzo attraverso Lolli con cui abbiamo già cominciato a elaborare alcuni stimoli rispetto ad un possibile sviluppo del futuro. Siamo stati convocati per il 23 luglio alla presenza anche di Cauti e di Fratocchi. Auspichiamo che in quella sede si possa cominciare a trovare una sinergia rispetto a possibili investitori che possono in qualche modo coinvolgere non solo il personale rimasto ma anche un interesse per il futuro pur comprendendo che non viviamo nell'era dei miracoli ma piano piano se c'è una progettualità credibile fatta con gli stimoli politici come ci stanno dimostrando in questo periodo siamo ben lieti di dare un contributo come parti sociali. La rapina è stata scoperta quando le addette dell'impresa delle pulizie all'interno della filiale della banca di credito cooperativo Piceno Truentina hanno udito richieste di aiuto provenire dall'interno dei bagni. Erano i dipendenti dell'istituto di credito di Martinsicuro che erano stati legati dai rapinatori. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Teramo alle 16 tre persone senza armi e con il volto parzialmente camuffato sono entrate fingendosi i clienti minacciando gli impiegati di consegnare il denaro in cassa. Dopo averli legati in bagno sono fuggiti forse a bordo di un'auto sulla quale c'era probabilmente un complice ad aspettare il bottino sarebbe ingente tra i 50.000 e 100.000 euro. Sono entrati invece a volto coperto in un opificio cinese dopo aver minacciato le cinque persone presenti con pissore presumibilmente giocattolo le hanno legate fuggendo poi con 1.600 euro. subito dopo hanno cercato di introdursi in un'azienda vicina che produce jeans ma è scattato l'allarme e sono fuggiti. Protagonisti della rapina avvenuta ieri sera a Castellalto quattro uomini ricercati dai carabinieri di Teramo. Secondo una prima ricostruzione obiettivo della rapina era la seconda azienda sempre di proprietà cinese dalla quale i malviventi speravano di portare via decine di jeans da rivendere poi. Producevano e spacciavano droga nell'Aquilano i carabinieri smantellano una banda di straniere e cinque sono finite gli arresti domiciliari. Uno è ancora latitante. E' terminata con l'arresto di cinque cittadini stranieri l'operazione che ha preso il via dalle prime ore della giornata da parte del comando provinciale dei carabinieri. I reati commessi dai quattro abanesi o marocchino vanno dalla produzione traffico e spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana. Attualmente i carabinieri sono attivi da ricerca di un sesto uomo. Anche lui di nazionalità albanese domiciliato ha scoppito. Le misure cautelari sono sei. Questa mattina ne sono state eseguite cinque. Due delle quali proprio nel quartiere Torbella Monaca di Roma e tre nell'area qui di L'Aquila. Precisamente ne ha scoppito Pizzoli e L'Aquila. Un soggetto è attivamente ricercato. Si dovrebbe forse trovare, non sappiamo se è ancora in territorio nazionale o in territorio estero. Comunque attivamente è ricercato dai militari. Ci sono altre sei persone, oltre alle persone arrestate, che sono destinatari dell'informazione di garanzia per il medesimo reato e sono coloro che hanno collaborato con gli arrestati a quello che era lo smercio dell'Oso Sanchez. La personalità di spicco nell'ambito di questa complessa organizzazione era Marildolesca, il quale alla vista dei carabinieri ha cercato di scappare ed ora verrà processato per direttissima anche per reato di resistenza pubblico ufficiale. Il sistema che gli uomini avranno messo in piedi prevedeva anche una serie di relazioni con soggetti malavvitosi dell'area Capitolina, però più tessuti dallo stesso a Marildo. Inoltre il trasporto dello stupefacente veniva effettuato attraverso l'utilizzo di autovetture intestate a persone incensurate, per poi rivendere lo stesso sul mercato aquilano e della Marzica. Questa attività di indagine è tra origine nel mese di settembre 2014 da parte del nucleo operativo radiomobile della compagnia di L'Aquila. A seguito di un attento monitoraggio del territorio i militari hanno attenzionato un soggetto già noto alle forze dell'ordine per reati specifici in materia di sostanze stupefacenti, ovvero un certo lescai a Marildo di origine albanese. Hanno studiato i movimenti di questo soggetto e si sono resi conto che effettivamente benché gravato da numerosi precedenti, come dicevo, ha continuato indisturbatamente a compiere la sua attività di spaccio di cocaina, marijuana e d'accis. Diverse decine di confezioni di farmaci scaduti, in alcuni casi anche da due anni, dispositivi medici scaduti e rifiuti ospedalieri non smaltiti da tempo. E quanto trovato a bordo delle ambulanze del servizio 118 dell'ospedale di Sulmona dai carabinieri del NAS di Pescara, l'ispezione è scattata in seguito ad alcune segnalazioni. Irregolarità sono state riscontrate a bordo di tutti i mezzi controllati. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale come già avvenuto per i medicinali scaduti trovati dai militari del NAS negli ospedali di Avezzano, Pescara, L'Aquila e Teramo. Lavoro in cambio di ospitalità è quanto prevede il protocollo siglato tra Prefettura di Pescara, Comune di Città Sant'Angelo e Azienda pubblica di servizi alla persona della provincia di Pescara per i migranti ospitati nel borgo angolano. È stato siglato oggi in Prefettura a Pescara il protocollo d'intesa che consente ai richiedenti protezione internazionale ospitati nel territorio del Comune di Città Sant'Angelo di svolgere attività di volontariato. Il documento è stato sottoscritto da Comune, Prefettura e Azienda pubblica di servizi alla persona della provincia di Pescara. Sono 16 ad oggi i migranti ospitati a Città Sant'Angelo. Con questo protocollo, ha detto il Presidente dell'ASP Dario Recubini, che ha trovato rifugio nella nostra terra potrà ricambiare l'ospitalità rendendosi utile alla collettività. Grazie all'accordo con il Comune di Sant'Angelo potranno fare attività di volontariato per lavori socialmente utili e comunque tenerli impegnati e insegnargli le nostre attività. Al Comune Angolano, che opererà in sinergia con associazioni e organizzazioni di volontariato, viene affidato il compito di individuare i servizi che potranno essere svolti dai migranti. Sentiamo il Sindaco Gabriele Florindi. Lavori socialmente utili affiancheranno gli operai del Comune di Città Sant'Angelo, che faranno anche da tutor, per la manutenzione dei parchi, dei giardini, l'arredo urbano, il decoro e tutto quello che serve. 16 unità sono importanti. Da precisare che al Comune non costa nulla, non tolgono lavoro a nessuno, è soltanto volontariato. Non sopportava l'attività rumorosa della lavanderia sotto casa e per lunghi periodi, dal dicembre 2009 a dicembre 2011, ha lanciato dal suo balcone secchi di acqua sulla titolare dell'esercizio, ripetutamente minacciata e ingiuriata. Con l'accusa di atti persecutori, il Tribunale di Lanciano ha condannato penalmente una lancianese di 68 anni a 1.000 euro di multa, disposto inoltre al risarcimento danni da quantificarsi in sede civile. Restiamo a Lanciano anche con il prossimo servizio. Perde il controllo della Fiat Bravo e termina la sua corsa in Largo Martiri delle Foibe, dopo aver provocato una carambola di auto. L'incidente è avvenuto a Lanciano alle 11.30 all'incrocio tra Viale delle Rose e Via Caduti di Nassiria, protagonista una donna che avrebbe perso il controllo dell'auto probabilmente a causa di un malore. 5. Le macchine coinvolte. Una Nissan Qashqai era ferma in Viale delle Rose per dare precedenza a un furgoncino Renault Kangoo che proveniva da Via Dalmazia e procedeva verso il quadrato. La monovolume all'improvviso è stata tamponata dalla Fiat Bravo della donna che viaggiava senza controllo dando via al domino. La Nissan ha colpito il furgone che a sua volta è finito addosso a un Audi cabriolet parcheggiata vicino all'incrocio. La Bravo è finita dapprima addosso a una Renault Clio posteggiata lungo la strada sbalzandola sul marciapiede, poi ha terminato la sua folle corsa nell'area verde di Largo Martiri delle Foibe sotto un albero all'ingresso della terrazza. Altri due veicoli, una Lancia Ypsilon e una Fiat Punto posteggiate nella zona sono rimasti danneggiati. In tre hanno fatto ricorso alle cure mediche. Sul posto per i rilievi sono intervenute due pattuglie della Polizia Municipale. Dopo la chiusura di tre sale scommesse irregolari tra Silvio e Roseto degli Abruzzi, la Polizia di Teramo ha notificato altri dieci ordini di cessazione di attività di raccolta di scommesse, questa volta in Val Vibrata per mancanza di licenza. I provvedimenti riguardano tre sale a Martinsicuro, tre ad Alba Adriatica, una ciascuna a Giulia Nova, Colonnella, Mosciano, Sant'Angelo e Civitella del Tronto. Le strutture non hanno aderito alla normativa di regolarizzazione stabilita dalla legge 190 del 2014. Sono un centinaio gli eventi in cartellone per l'estate 2015 a Lanciano dureranno fino alla fine di agosto. Sentiamo. Sono un centinaio gli eventi del cartellone di Lanciano estate 2015 presentato dal vice sindaco Pino Valente con appuntamenti fino a fine agosto quando entreranno in scena le tradizionali feste di settembre. Il programma spazia su spettacoli di vario genere, cinema sotto le stelle, arte, musica, cultura, divertimenti, enogastronomia e concerti. Il primo concerto sarà quello di Eugenio Bennato il 23 luglio in piazza Plebiscito che inaugura la quinta edizione della seguita rassegna giovedì del gusto che andrà avanti fino al 20 agosto con musica, cabaret e stand gastronomici. Tra gli altri appuntamenti il 30 luglio si segnala il Lanciano Blues Festival. Dal 20 al 22 agosto si terrà la quindicesima edizione del Festival Nazionale Adriatica Cabaret e dal 20 al 30 agosto torna la città delle stelle, quest'anno 21esima edizione. Ancora in forza il masto giurato lasciato senza fondi dalla regione Abruzzo. Ed ora la pagina sportiva, terzo giorno di ritiro a Roccaraso con il tecnico D'Aversa che aspetta rinforzi confermata la trattativa della Virtus con l'Udinese per il portiere Scuffet per l'attacco vicino Pietro Iemmello. Roccaraso, 1250 metri d'altezza, secondo anno di fila con bandiere rosso-nere in quota. Aria buona, caldo sopportabile, Virtus al lavoro. Con l'hotel Vetta d'Abruzzo eletto a quartier generale. L'atmosfera è quella a cui ci si è ormai abituati. Lavoro in corso e in sede di calciomercato, preparazione atletica soprattutto, orari rigidi che scandiscono le giornate, doppie sedute e intervallate da pranzi e cene, partite a carte, riposini. Antonio Aquilanti, chissà se hai perso il conto, che numero di ritiro è per la tua carriera? Questo è il dodicesimo ritiro. Mantieni la mente bella fresca? Sì, è sempre positivo fare ritiro, vuol dire che si gioca, è quello che amo da bambino. Sono contento di fare il ritiro, spero di farne ancora tanti. Poi il ritiro in Abruzzo è come sentirsi a Roccaraso a casa, diciamo, via, qualche chilometro e si è lanciato. È il terzo anno che veniamo qui, si sta veramente bene, sia come temperatura, sia il campo in buone condizioni, quindi la struttura qua ci offre tutto, quindi alla grande. Lavorate ma vi divertite anche, no? Sì, sì, ci divertiamo, lavoriamo bene e ci prepariamo per questa nuova stagione. Che lavoro è? Che lavoro state portando avanti? Ora stiamo facendo un po' di piscina, anche se io sto facendo una fatica enorme in acqua, e poi stiamo facendo un po' di lavoro aeropico, come giusto che sia. Nuovi? I nuovi si sono integrati bene, di Francesco io già lo conoscevo, gli altri due ragazzi sono venuti, sono messi a disposizione del gruppo. Manca ancora qualcosa? Ma questo penso che anche Valentina Maio, la presidentessa, l'ha detto, Luca Leone ogni anno ci ha sempre dimostrato che sa fare il proprio lavoro. Calciomercato dunque aperto, anche se le aspettative di mister Roberto D'Aversa, che avrebbe gradito gran parte della rosa a disposizione già da Roccaraso, sono state parzialmente disattese. Per adesso D'Aversa non ha rilasciato dichiarazioni, lo farà probabilmente il 24. Simone Scuffet, dall'Udinese, portiere di prospettiva, potrebbe arrivare in prestito con Nicolas sempre più lontano. Si lavora per rinnovare il prestito di Andrea Conti per il centrocampo. Il Mirino è puntato sul ventenne Alberto Grassi, scuola Atalanta e sempre Leonardo Capezzi dalla Fiorentina. Il suo nome ormai circola da oltre un mese. Vastola dovrebbe firmare, ma non ancora si è aggregato al ritiro. Sarà un caso? Boh, lo scopriremo solo vivendo. Attacco il fratello di Davide Gatto, Massimiliano, del Chievo. L'anno scorso a Carpi potrebbe interessare con Roberto Inglese, che sembra cedere il passo a Pietro Iemmello. E' proprio Iemmello il candidato numero uno per il riferimento offensivo. Ma la società non sembra avere fretta, pensando ai classici affari di agosto. Il 24 luglio il rientro in sede per il test con il Latina. E questa sera non perdete l'ultimo appuntamento della stagione con Ammuso Duro, in studio Sergio Mancini e Gianfranco Semproni. Grazie per essere rimasti con noi, buon proseguimento di serata su Telemax. Grazie a tutti.